Il testo delle act non è ancora nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea ma già va a plasmare le decisioni degli Stati membri? Sì, il testo del Regolamento Europeo sull'intelligenza artificiale non è ancora in gazzetta ufficiale ma lo conosciamo nelle sue caratteristiche fondamentali e quindi non solo è normale ma è giusto che soprattutto le pubbliche amministrazioni comincino a capire che impatto ha sui progetti esistenti e sugli acquisti di tecnologia che devono fare visto che ormai non si può aspettare sei mesi o due anni l'intelligenza artificiale e già in tanti acquisti che la pubblica amministrazione fa da un punto di vista informatico. C'è un caso interessante nel Stato della Catalogna, in Spagna, si era ipotizzato di utilizzare l'intelligenza artificiale per riconoscere attraverso la videosorveglianza le emozioni e lo stato d'animo dei detenuti facendo un monitoraggio dei detenuti, capire che era depresso, che era arrabbiato, che era triste, che era felice e questo progetto sarebbe diventato operativo nei prossimi mesi. Grazie presumibilmente proprio all'impatto di un regolamento che ancora non è stato pubblicato ma sicuramente avrebbe reso quel trattamento inaccettabile come rischio per i diritti e la libertà degli interessati si è deciso di fermarlo. Parliamo adesso dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella giustizia. Se l'intelligenza artificiale viene utilizzata per predisporre una bozza di provvedimento ai fini dell'attività giudiziaria che cosa fare, come gestire, quali rischi? L'intelligenza artificiale ha delle grandissime opportunità anche, lo dico da avvocato, nel sistema della giustizia può efficientarlo, può rendere il sistema più equo ed è una garanzia di diritti costituzionali. Tuttavia bisogna stare attenti ai bisogni, innanzitutto essere consapevoli che questi sistemi sono sistemi che presentano degli inconvenienti e degli errori e invece la nostra tentazione di umani, pensiamo al navigatore dell'autovettura, è di fidarci della soluzione che un algoritmo più o meno affidabile, magari validato da un ministero, potrebbe darci. E quindi il rischio che utilizzare l'intelligenza artificiale per predisporre anche solo delle bozze di provvedimenti visto che l'intelligenza artificiale ragionevolmente potrebbe avere delle criticità perché potrebbe da un lato avere delle allucinazioni e quindi inventare provvedimenti o leggi che in realtà non esistono dall'altro potrebbe essere appiattita sul precedente, quindi potrebbe essere appiattita sul caso che c'è già ma invece secoli di giurisprudenza ci hanno insegnato che delle innovazioni del diritto nascono per la sentenza innovativa che poi sconvolge orientamenti tradizionali, questo potrebbe determinare un appiattimento, uno slittamento verso la conferma del precedente che sarebbe sicuramente un arretramento rispetto alla cultura giuridica di cui giustamente noi andiamo così fieri. Quindi l'idea è di capire come inserire i sistemi di intelligenza artificiale nel sistema giustizia in modo da godere delle opportunità e dei benefici di questi sistemi senza compromettere tutti gli avanzamenti in termini di civiltà e di cultura giuridica che abbiamo fatto faticosamente.